Musica Ed eccoci qui amici di Serinfesta pronti per darvi il buon settembre oggi è il primo del mese e allora inizia una nuovissima stagione insomma iniziano le scuole sapete che settembre è un mese di ripartenza un po' di tutto e ripartono anche le nostre puntate anche se non sono in realtà mai fermate ma tornano a trovarci le grandi orchestre italiane perché adesso dopo l'estate sono tutti un po' tranquilli torneranno a trovarci i comitati anche questa settimana qui ci saranno veramente tanti amici che torneranno a raccontarci un po' delle loro feste settembrine ma iniziamo subito con la nostra musica lo facciamo con l'orchestra Vincenzi con Uomo Innamorato e subito dopo Fabio Cozzali con L'Ultimo Sorriso vi auguro un buon giovedì hai mai visto un uomo innamorato nella mente un chiodo fisso chiudo gli occhi sono dentro a un sogno siamo soli in mezzo al mondo io e te non senti come canta un uomo innamorato canta come non aveva mai cantato io non ti coprirei né d'oro né d'argento ma vorrei sentissi quello che io sento dove sei stata prima di adesso dove ero io un altro uomo senza di te una barca sola in mezzo al mare tu il mio faro e Dio lo seguirò vincerò le onde e le sirene con la mia canzone ti raggiungerò non senti come canta un uomo innamorato nella notte un rombo di motor una corsa di ragazzi spensierati una sera passata in compagni fra risate canzoni ed allegria ma nel buio due fanali verso il cielo nel silenzio sotto il chiaro delle stelle fanno battere un cuore così forte la c'è un padre che grida figlio mio fammi l'ultimo sorriso ballo per me apri gli occhi amore mio dai guardami non spezzare il mio cuore ti prego parlami sei un fiore appena nato tu sei tutta la mia vita se mi lasci impazzirò quanti gigli sradicati dalla terra dalle mani impietose del destino quanti fiumi di lacrime e a proposito di sorriso che era proprio l'ultimo brano vi ricordo anche la festa del sorriso di Torriana che sarà l'11 settembre mancano pochi giorni c'è ancora un po' di tempo per prenotare i posti sono limitati dunque vi aspettiamo numerosissimi per tutte le informazioni prendete appunti i nostri appuntamenti consigliati 33esima festa regionale della Polenta Villa D'Adi Gerovigo dall'8 al 25 settembre giovedì 8 Patti e Paolo Bend venerdì 9 Pietro Galassi sabato 10 si balla con l'orchestra di Matteo Tarantino domenica 11 settembre Katia e Max ospiti le donne italiane lunedì 12 orchestra voice con Dennis e Enrica martedì 13 The Stranger anni 80-90 mercoledì 14 Savio Group giovedì 15 Manuel Martini orchestra Marchetti venerdì 16 Ilegne Festival sabato 17 Rossella Ferrari e Casanova domenica 18 orchestra italiana Bagutti lunedì 19 gruppo simpatia di Musica Allegria martedì 20 orchestra Renzo Biondi mercoledì 21 Martina e Mattia giovedì 22 si balla con l'orchestra dei Rodigini venerdì 23 serata evento Dalimos Band con Genio e la Bubi Band sabato 24 orchestra Daniele Tarantino domenica 25 gran finale con l'orchestra di Omar Codazzi stand gastronomici panarine gratis ampio parcheggio fiera stand coperti e riscaldati festa campagna magra di Vigasio Verona quarta festa delle lasagnette col cunel sabato 3 settembre serata cover band nomadi con ex utopia tocco al cuore domenica 4 si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna lunedì 5 presentazione squadra settore giovanile a C. Vigasio martedì 6 guarda danze night show mercoledì 7 tributo Vasco Rossi con gli 045 band giovedì 8 settembre orchestra Savio Group stand gastronomici ingresso libero il ristorante pizzeria e pescatori vi aspetta a Roncollarige in via Valmarana 4 aperto dal martedì alla domenica dalle 7 alle 24 ampio parcheggio ottima cucina di carne e pesce musica dal vivo nel fine settimana in tutto il periodo estivo per info e per notazioni 045 6615229 festa solidale un sorriso per la vita domenica 11 settembre alle ore 12.30 presso Parco Grola di Torriana Sera Valle Po Mantua pranzo 20 euro a seguire pomeriggio danzante con l'orchestra di Mirko Bellutti e molti ospiti conduce Serena Carletti riprese televisive di serie in festa gonfiabile per bambini gratis per info e per notazioni 038640186 oppure 3398862562 la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo 96esima sagra di Raldon Regeneration festa di Maria Maddalena e Madonna del Capitel dal 2 al 12 settembre presso Palatenta venerdì 2 settembre serata Verona Summer Country Tour 2016 sabato 3 settembre alle ore 20 a Giriti Dog a seguire le ore 21 orchestra Selena Valle domenica 4 settembre ore 21 orchestra Susanna Pette lunedì 5 compagnia teatrale La Barcaccia presenta El Ciel Sotto Verona martedì 6 compagnia teatrale Forme Lituane presenta La Bottega del Caffè giovedì 8 alle ore 20 Marconi Cotton Band a seguire esibizione di danza a cura della polisportiva La Cometa venerdì 9 serata tributo zucchero con Sugar Live sabato 10 alle ore 20 Time to School Studio a seguire orchestra di Sergio Cremonese domenica 11 settembre alle ore 20 all'Iballi Dance orchestra Roberto Tagliani lunedì 12 orchestra Ornena Nicolini a seguire spettacolo Piro Musicale stand gastronomici pesca di beneficenza ingresso libero si balla su pista d'acciaio le serate si svolgeranno anche in caso di pioggia 38 paglio delle quadre Cortezano Chiari Brescia domenica 4 settembre apertura festa con Santa Messa lunedì 5 si balla con l'orchestra ipotesi band martedì 6 serata danzante con Ruggero Scandiuzzi mercoledì 7 wiki music a seguire cabaret con Edoardo Romano giovedì 8 orchestra Stefano Frigerio con l'intervento di obiettivo danze venerdì 9 orchestra Sergio Cremonese sabato 10 sfilata storica Lodovico Mazzotti il conte a seguire orchestra Alex Marossi e Corsa del Palio domenica 11 Santa Messa di Ringraziamento ingresso libero stand gastronomici Castel Belfort in Fiera Mantova dal 2 al 6 settembre presso Giardini di Piazza 4 novembre venerdì 2 serata latinoamericano con animazione Timba Mania sabato 3 orchestra Stefania e Mamma Mia Band domenica 4 si balla con l'orchestra di Maurizio Medeo 1 di 5 settembre orchestra Magri Lisoni martedì 6 orchestra Caramel a seguire spettacolo pirotecnico spazio giovani food and drink bar no stop stand gastronomici con specialità locali Luna Park mercato serale pista d'acciaio ingresso libero ristorante pizzeria Stella la trovate a Correzzo di Cazzo Veronese in via Dante di Ieri 22 vi aspetta con colazioni aperitivi pranzi di lavoro a menù fisso e cene anche da sporto aperto dal martedì alla domenica nell'ampia sala potrete assaporare carne pesce pasta fatta in casa risotto colerane tagliatelle e ottime pizze con farine speciali ed ingredienti selezionati il ristorante pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzzo Veronese per info 0442 58007 se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza segala ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio lo staff attento alle esigenze del cliente sempre cordiale vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzzo Veronese in via H9 i professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno qui infatti troverete molte idee dalle più tradizionali alle più moderne ceramiche rubinetteria sanitarie colonne per box dolce e molto altro fiore all'occhiello il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna ad un ottimo rapporto qualità prezzo e ancora parchè pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto Outlet con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno per toccare con mano la qualità dei prodotti venite a trovarci siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato segala ceramiche da più di 30 anni veste la tua casa stai cercando un locale accogliente e familiare per le tue serate in compagnia? la pizzeria Paradiso di Roncanova ha la soluzione che fa per te preparatevi a gustare ottime bere artigianali pizze classiche a mezzo metro cotte in forno a legna anche da sporto e per concludere con dolcezza le vostre serate lo staff vi saprà tentare con una selezione di sfiziosi dolci l'ampio giardino estivo con più di 100 coperti è l'ideale per le vostre cene estive inoltre per i più piccoli troverete un'attrezzata area baby pizzeria Paradiso da 26 anni al vostro servizio via Roma Roncanova per info e prenotazioni 0442 58052 per una settimana esatta l'orchestra di Stefano Frigiero sarà protagonista della sagra di Chiari Brescia nel 38esimo paglio delle quadre di Cortezano nel frattempo noi ce l'ascoltiamo con il brano italiana che è un duetto dalla voce di Lori e Stefano che è un'attrezzata che è un'attrezzata io ti miro tu mi miras io voglio te bailando forse la pazia ma adesso tu sei mia ti stringo forte al cuore mio bailando ed ora una brevissima pausa pubblicitaria poi saremo ancora qui in questo primo settembre vi aspetto ed eccoci qui pronti anche in questo giovedì per salutare qualcuno di voi che ci ha scritto ma iniziamo con un compleanno arriva il brano buon compleanno di Lara Agostini per l'amica Rosa Melotti tanti auguri a te subito dopo arriva anche il brano di Ilenia e i festival nel titolo una finestra fra le stelle si riaccende la speranza e dietro ci sei tu tra gli orrori e le miserie sai brillare tu ogni tuoi sedici anni io senza scuse e inganni sei così irripetibile sei di non cambiare se vuoi così tenera e discreta solo a te ne stai a parlare il tuo diario dei progetti tuoi di quel biondino che ti gira attorno ma coraggio non ha di raccontarti quella voglia che ha mai più avrai sedici anni perché tanti ti mori e poi sciogli i tuoi capelli e poi profumizzati in donna non tremare spegni le candele dai che piatto tu ne hai a me buon compleanno sono qui felice sono anch'io ti guarderò spiccare il volo e finalmente azzurro il cielo e tu colomba quando c'è ancora volerai si rassegna malincuore la tua bambola sotto quegli stracci lei nasconde un animale stringila forte a te certo ti mancherà le notti con lei quanto pianto si è fatta anche lei mai più avrai sedici anni perché tanti ti mori e poi sciogli i tuoi capelli e poi profumizzati in donna non tremare spegni le candele dai che piatto tu ne hai a te buon compleanno sono qui felice sono anch'io ti guarderò spiccare il volo e finalmente azzurro il cielo e tutto non fa quando c'è l'uomo e la volerai e tu colomba quanto c'è o buona volerai azzurro Trasformami in bolla per farmi toccare una stella Soffia piano e regalami un giro di luna Senza che se ne accorga Legami a un raggio di sole, regalalo al vento E di ogni mio sorriso cattura l'essenza e poi donala al mondo Niente muore, tutto vive quando sono con te E non cerco più niente tranne la certezza che Tu sei qui con me, tu sei qui con me, tu sei qui con me sempre Voglio solo te, voglio solo te e non sento più niente Sento solo il presente Sento solo le onde Mentre sbattono forte Ma sento che non può succedermi niente Se mi stringi più forte Non c'è amaro più dolce Nel sapore di un bacio bagnato e sfuggente Che accende le foglie Un fiore che cerca la terra Che cerca la pioggia È come uno sguardo che spera in un bacio Che nutre la voglia Niente muore, tutto vive quando sono con te E non cerco più niente tranne la certezza che Tu sei qui con me, tu sei qui con me, tu sei qui con me sempre Voglio solo te, voglio solo te Voglio solo te e non sento più niente Sento solo il presente Sento solo le onde Mentre sbattono forte Ma sento che non può succedermi niente Se mi stringi più forte Non c'è amaro più dolce Nel sapone che un bacio bagnato e sfuggente Che accende le foglie E non c'è amaro più dolce E sento che non può succedermi niente Se mi stringi più forte Non c'è amaro più dolce Nel sapone di un bacio bagnato e sfuggente Che accende le foglie Ristorante Pizzeria Stella La trovate a Correzzo di Cazzo Veronese In via Dante di Ieri 22 Vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso E cene anche da sporto Aperto dal martedì alla domenica Nell'ampia sala potrete assaporare Carne, pesce, pasta fatta in casa Risotto con le rane, tagliatelle E ottime pizze Con farine speciali ed ingredienti selezionati Il ristorante Pizzeria Stella Vi aspetta a Correzzo di Cazzo Veronese Per info 0442 58007 Il ristorante Pizzeria Pescatore Vi aspetta a Roncollarige In via Valmarana 4 Aperto dal martedì alla domenica Dalle 7 alle 24 Ampio parcheggio, ottima cucina Di carne e pesce Musica dal vivo nel fine settimana In tutto il periodo estivo Per info e prenotazioni 045 6615 229 Stai cercando un locale accogliente e familiare Per le tue serate in compagnia? La Pizzeria Paradiso di Roncanova Ha la soluzione che fa per te Preparatevi a gustare Ottime bere artigianali Pizze classiche a mezzo metro Cotte in forno a legna Anche da sporto E per concludere con dolcezza le vostre serate Lo staff vi saprà tentare Con una selezione di sfiziosi dolci L'ampio giardino estivo Con più di 100 coperti È l'ideale per le vostre cene estive Inoltre per i più piccoli Troverete un'attrezzata area baby Pizzeria Paradiso Da 26 anni Al vostro servizio Via Roma Roncanova Per info e prenotazioni 0442 580 52 E prima di lanciare il prossimo brano Che è di Roberto Morselli Vi ricordo che sia lui Che tante altre orchestre del Carletti Spettacoli Saranno protagoniste del Seri in Festa e in Tour Sapete che abbiamo iniziato presto quest'anno E terminiamo in questo mese di settembre Le ultime date saranno il 15 a Sorgà E il 16 ad Aselogna Ultime due tappe del Seri in Festa e in Tour Imperdibili Come sempre riprese televisive Grandi ospiti Tanta buona musica Gadget e orchestra base Micaela e i Magnifici Vi aspettiamo numerosissimi Ma ora arriva lui Roberto Morselli Se avessi ali volerei Per arrivare fino a te Mi stringerei in un caldo abbraccio E poi mi spoglierei solo per te Sarà quest'aria che respiro tra noi Che accende a fondo i sensi miei Se fossi acqua ti verrei E lentamente impazzirei Tu mi imprigioni con un gesto Ed io mi sento persa accanto a te Mi dici cose che non hai detto mai Son disonesti i baci tuoi Abbracciami Difendimi Sono la tua donna Fai di me ciò che vuoi Poi stringimi Accarezzami Febbre d'amore su di noi Divento rossa E il mio vestito va giù Mi hai fatto tu e non scappo più Se fossi un sogno apparirei La notte nei pensieri tuoi Ti porterei in un mondo solo per noi E una bugia mi inventerei E al tuo risveglio tutto non svanirà E accanto a te mi troverai Abbracciami Abbracciami Difendimi Sono la tua donna Fai di me ciò che vuoi Poi stringimi Accarezzami Febbre d'amore su di noi Divento rossa E il mio vestito va giù Mi hai fatto tu e non scappo più Mi dici cose che non hai detto mai Sono disonesto Sono disonesti i baci tuoi Abbracciami Difendimi Sono la tua donna Fai di me ciò che vuoi Ma vai di me ciò che vuoi Ma vai di me ciò che vuoi Poi stringimi E accarezzami Accarezzami Febbre d'amore su di noi Divento rossa E il mio vestito va giù Mi hai fatto tu e non scappo più Abbracciami Difendimi Sono la tua donna Sono la tua donna Fai di me ciò che vuoi Ma vai di me ciò che vuoi Poi stringimi Accarezzami Febbre d'amore su di noi Divento rossa E il mio vestito va giù Mi hai fatto tu e non scappo più Divento rossa E il mio vestito va giù La notte è tutta per noi Brevissimo break pubblicitario Poi saremo ancora qui Torna la musica E i nostri appuntamenti della settimana A tra poco Ed eccoci qui dopo una brevissima pausa Siamo tornati nel nostro studio Per continuare questa puntata Del primo settembre Lo facciamo con l'orchestra di Frank David Quest'estate ha riscosso davvero tanto successo Nel veronese Con i suoi effetti speciali La sua grande musica italiana Ce l'ascoltiamo con l'Isola del Sole Subito dopo gli appuntamenti consigliati C'è chi parla di un posto laggiù Dove regna solo libertà Sogni che non hanno confini In quella immensità Ci lasceremo andare Noi due soli in quel mare blu Armonia di colori lassù Di senza pudore Io ti voglio amare Perché Non sarà un'avventura Ti voglio portare Nell'Isola del Sole Anche se Quando vuoi Ti prendi gioco di me Ti voglio amare Nell'Isola del Sole E se tu E se tu Lo vorrai Ci perderemo per sempre Sempre È un quadro d'autore Un quadro d'autore per noi In questo lungo mare Noi due soli in quel mare blu Armonia di colore Armonia di colori lassù Nell'Isola del Sole Nell'Isola del Sole E se tu Ti voglio amare Nell'Isola del Sole E se tu E se tu E se tu Lo vorrai Ci perderemo per sempre Trentatreesima festa regionale della Polenta Villa D'Adi Gerovigo Dall'8 al 25 settembre Giovedì 8 Patti e Paolo Benda Venerdì 9 Pietro Galassi Sabato 10 Si balla con l'orchestra di Matteo Tarantino Domenica 11 settembre Katia e Max Ospiti Le Donne Italiane Lunedì 12 Orchestra Voice Con Dennis e Enrica Martedì 13 The Stranger Anni 80-90 Mercoledì 14 Savio Group Giovedì 15 Manuel Martini Orchestra Marchetti Venerdì 16 I Legni Festival Sabato 17 Rossella Ferrari E Casanova Domenica 18 Orchesta Italiana Bagutti Lui di 19 Gruppo Simpatia di Musica Allegria Martedì 20 Orchestra Renzo Biondi Mercoledì 21 Martina e Mattia Giovedì 22 Si balla con l'orchestra dei Rodigini Venerdì 23 Serata Evento Dalimos Band Con Genio e la Bubi Band Sabato 24 Orchesta Daniele Tarantino Domenica 25 Gran Finale con l'orchestra di Omar Codazzi Sede gastronomici Panarine gratis Ampio parcheggio Fiera Stand coperti e riscaldati Festa Campania Magra di Vigasio Verona Quarta Festa delle Lasagnette col Cunel Sabato 3 settembre Serata Cover Band Nomadi Con Ex Utopia Tocco il Cuore Domenica 4 si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna Lunedì 5 Presentazione Squadra e Settore Giovanile A Civi Gasio Martedì 6 Gada Danze Night Show Mercoledì 7 Tributo Vasco Rossi con gli 045 Band Giovedì 8 settembre Orchestra Savio Group Stand gastronomici Ingresso libero Festa solidale Un sorriso per la vita Domenica 11 settembre alle ore 12.30 Presso Parco Grola di Torriana Seravalle Po Mantova Pranzo 20 euro A seguire Pomeriggio danzante con l'orchestra di Mirko Bellutti e molti ospiti Conduce Serena Carletti Riprese televisive di Seri in Festa Gonfiabile per bambini gratis Per info e prenotazioni 0386 401 86 Oppure 339 88 62 562 La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo Novantaseisima Sagra di Raldon Regeneration Festa di Maria Maddalena e Madonna dei Capitelli Dal 2 al 12 settembre presso Palatenda Venerdì 2 settembre serata Verona Summer Country Tour 2016 Sabato 3 settembre alle ore 20 Agility Dog A seguire alle ore 21 Orchestra Selena Valle Domenica 4 settembre Ore 21 Orchestra Susanna Peppe Lunedì 5 Compagnia Teatrale La Barcaccia Presenta El Ciel Sotto Verona Martedì 6 Compagnia Teatrale Forme Lituane Presenta la Bottega del Caffè Giovedì 8 alle ore 20 Marconi Cotton Band A seguire esibizione di danza A cura della polisportiva La Cometa Venerdì 9 Serata Tributo Zucchero con Sugar Live Sabato 10 alle ore 20 Time to School Studio A seguire l'Orchestra di Sergio Cremonese Domenica 11 settembre alle ore 20 Alli Balli Dance Orchestra Roberto Tagliani Lunedì 12 Orchestra Ornena Nicolini A seguire spettacolo Piro Musicale Stand Gastronomici Pesca di Beneficenza Ingresso Libero Si balla su pista d'acciaio Le serate si svolgeranno anche in caso di pioggia Trentottesimo Paglio delle Quadre Cortezano Chiari Brescia Domenica 4 settembre Apertura Festa con Santa Messa Lunedì 5 si balla con l'Orchestra Ipotesi Band Martedì 6 Serata Danzante con Ruggero Scandiuzzi Mercoledì 7 Wikimusic A seguire Cabaret con Edoardo Romano Giovedì 8 Orchestra Stefano Frigerio Con l'intervento di Obiettivo Danze Venerdì 9 Orchestra Sergio Cremonese Sabato 10 Sfilata Storica Lodovico Mazzotti il Conte A seguire Orchestra Alex Marossi e Corsa del Palio Domenica 11 Santa Messa di Ringraziamento Ingresso Libero Stand Gastronomici Castel Belfort in Fiera Mantova dal 2 al 6 settembre Presso Giardini di Piazza 4 Novembre Venerdì 2 Serata Latinoamericano con animazione Timba Mania Sabato 3 Orchestra Stefania e Mamma Mia Band Domenica 4 si balla con l'Orchestra di Maurizio Medeo 2 di 5 settembre Orchestra Magri Lisoni Martedì 6 Orchestra Caramel A seguire Spettacolo Piro Tecnico Spazio Giovani Food & Drink Bar No Stop Sandegastronomici con specialità locali Luna Park Mercato Serale Pista d'Acciaio Ingresso Libero Termina così questo giovedì 1 settembre che ha aperto questo nuovo mese Io vi aspetto domani mattina come sempre puntuali alle 11.15 qui nei nostri studi di serie in festa sempre su Telearena Canale 16 Ora vi lascio in compagnia dell'Orchestra di Cremonini con la Mini Polca e subito dopo l'Orchestra Baracca con Facciamo Baracca L'appuntamento consigli in festa per domani mattina seguite però anche le nostre repliche a domani No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.